Musica Amici, passeggiando per le vie del centro di Palermo abbiamo incontrato il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli. Come va in cui oggi? Ma sarà sempre così, i palermitani mi continueranno a trovare dove mi hanno trovato nel corso di questi dieci anni, sempre per strada, a parlare con altri palermitani, a pensare come risolvere i tanti problemi di questa città e soprattutto a farli capire che c'è una grande sfida il 20-21 maggio, che è l'appuntamento col futuro. Noi stiamo chiedendo a tutti i palermitani di avere il coraggio di cambiare, perché questa città deve guardare vent'anni avanti e non vent'anni indietro e lo dobbiamo soprattutto ai tanti giovani che non devono più lasciare questa bellissima città. Come ti stai preparando a questa sfida? Stiamo continuando a fare quello che abbiamo sempre fatto, in massima libertà stare in mezzo ai palermitani a raccontare i nostri programmi, quello che vogliamo fare, come risolvere i problemi, come affrontare il buco di bilancio e come riassettare le società partecipate così da garantire tutti i posti di lavoro ma da garantire i migliori servizi alla città di Palermo. I palermitani hanno voglia di capire, di conoscere il futuro sindaco di questa città ed è giusto che il sindaco sia in mezzo ai problemi e sia in mezzo alla strada. Assolutamente sì, grazie e buona passeggiata. Grazie tante, ciao.